Ritornano come ogni mese di settembre i solenni festeggiamenti in onore di San Giuliano Martire, protettore della città di Giuliano. Una festa caratterizzata quest'anno da un fitto calendario liturgico e ludico, due i temi al centro degli incontri, l'ambiente e i giovani. Ritornare alla festa di San Giuliano è sempre un'emozione del cuore. Ecco noi vogliamo ritornare alle parole, all'esempio del nostro santo protettore che tante volte viene dimenticato. Avremo Don Maurizio Patriciello che per difendere questa nostra terra tante volte ha dovuto sfidare tante contraddizioni per affermare che difendere la propria terra significa difendere la propria vita. Verrà il martedì 17 settembre alle ore 19 e terrà questa lezione proprio sulla laudato sì. Poi la tematica dei giovani al discernimento della loro vocazione, della loro vita, della loro professione di domani, della scelta di vita e quindi sarà un padre pedicatore che sarà padre Francesco Bonanno dei missionari del preziosissimo sangue. Sarà da venerdì, da venerdì fino a domenica 22 settembre. Non possiamo dimenticare il fatto che San Giuliano è anche un santo che ha offerto la vita per il Signore in giovanissima età e quindi questo legame tra San Giuliano e i giovani è un legame che assolutamente va valorizzato, un appello a questi giovani così come è stato fatto l'anno scorso perché possano vivere nel migliore dei modi questi giorni di festeggiamenti a partire dalle diverse celebrazioni che poi culmineranno nella processione finale del 21 settembre. 23 settembre, ultimo giorno della festa quando c'è la famosa discesa di San Giuliano dal carro. Ecco questa festa comincerà il 14 settembre con una breve processione che partirà dalla parrocchia di San Giovanni dopo la messa delle ore 19 con tutte le congreghe, le associazioni della nostra città che accompagnerà poi San Giuliano per il Corso Campano, per via Licante, via Nilo Palumbo, via Roma e poi arrivato qui nella collegiale di Santa Sofia ci sarà l'intronizzazione sul carro di San Giuliano.